Sergio vuole suonare senza il monito? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Perfetto Paolo mi prendi per fuori il vaso? Grazie Però Io sono così Via di corsa Ciao compare Ciao compare Prova più veloce del mondo Comunque pensaci a sta cosa Dei corti E' un peccato Fartela scappare Ma infatti Tu intanto senti quella roba E' come no certo Guarda che quella la possiamo fare Io ho i giorni Posso venire da te Capisci se riesci a svincolarti Oh yeah Che ci tengono loro Ciao Buongiorno siamo qui al Salzo Maggiore a fare i fanghi Un po' di fanghi Noi fumiamo nonostante tutte le situazioni e le restrizioni Famosi fanghi di Salzo Maggiore Si Continuta come una insossazione Diciamo che la sua L'edificio ha cominciato All'affondamento Si è iniziato nel 1912 Devi fare il bagno E' una cosa Ti senti Appena nato Ti senti I internali Si ha proprio verso la fine dell'Ottocento I primi del Novecento Che? Chissà Quindi Sono due quadri simbolici Riportano molto Il clint E la secessione di il mece E sono due quadri Che esprimono Le due stagioni principali Cari amici Siamo entrati E abbiamo fatto la situazione Buono Facciamo una foto Tutto insieme Io ho l'acqua che mi esce dappertutto Dal naso Dalle orecchie Non lo so La fatta? Non lo so se la fatta Mi sa di no Ma mi sa di no Ecco Non lo so se la fatta 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 Questa è da dove viene la situazione? Ah è vero Un culametri 661 Diametro 300 Trivenato nel 1932 Pozzo numero 21 Ma quanti pozzi ci stanno? C'è un parametro per la densità Ci saranno una marea di pozzi Tutte Tarchiadelle Piccole E cose Un po' cistelle È vero? Un po' Un po' Bussatine Confronto Invece là Nel Veneto Sto facendo la ripresa Miss Italia Aspetta Non mi porto E' di Salso Maggiore Questa ragazza Questa qui è Salso Maggiore Ma quanti anni fa? Ah mica tanto Sarà 5 anni 5 anni E lei da quanto tempo vive qui? Io sono 44 anni C'è una miseria Che sono qui a Salso Maggiore Tantissimo Tanti eh Però Si sente Si sente Grande Questa si sente Salso Maggiore Eccolissimo Poi ci mi gonfiava Siccome non si piega Mi gonfiava tutta la braccia Allora è venuto lasciare stare Un nuovo Salso Maggiore Terme Con un'anteprima del tour Che porterà per l'Italia Il jazz E le ricercate note etniche Del suo ultimo disco Roba seria eh Per due volte L'artista calabrese Ha concesso il bis Cedendo agli applausi Di una platea calorosa Per tutta la sera Ha quindi regalato emozioni Grazie alla perfetta intesa Mostrata con i musicisti Passando dai ritmi Della forcella Del rabbi d'amante Ah proprio pezzo per pezzo La dolce sensualità Di senti Per poi passare a sorella mia Storia di un tale eh Il violino di Olin Cesare Con lui da 15 anni I due artisti Hanno giocato Con i suoni suggeriti Da una platea ironica E divertita Per dar vita A nuovi brani Arrangiamenti In un duetto impeccabile Per la prima volta Sul pacco A comporre una nuova band Che accompagnerà Il cantatore del tour italiano La tromba e il frigorno Di Fabrizio Bossa Medeo Riano La batteria Luca Bugherati Il contrabbasso Bruno Marcozzi Le percussioni Un ensemble completato Alle gitarre Da Michele Ascolese E suoi etnici Della tabla Ah i suoni etnici Della tabla Del maestro indiano Sanjai Kanjia Banik Allestimenti intimi Ma pronti a liberare Energia fatta Di luce e colori Hanno fatto da sfondo A un concerto Capace di accendere il pubblico E guarda Continua? Vabbè Quasi l'unico giornale Dove parlare bene Madonna Insomma Chi è sto giornalista? Conosce? Maria Chiara Illica Magrini Devi andare sul viso Ciao Bruno entra loading attr e zu si robic Phew sa